Ehi salve a tutti, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Super Mario World, qua vedo che continuiamo con gli altri livelli qua perchè stiamo quasi per arrivare al finale qua, stiamo nel boss, la sera del boss, il boss numero 6, il boss del mondo 6 qua, e faccio, e già inizio a fare le prime cagate anche in questo episodio, ma affano, cioè come perdere potenzialmente in poche serie, io non ci posso credere, spero di riuscire a prendere già il check point qua, cioè in pochi, cioè non è possibile, in pochi secondi già, cioè non è possibile, non è fottutamente possibile, cioè a meno male che non fu cammino, è sbloccato comunque la zona segreta che ti fa ottenere già i potenziamenti in poco tempo qua, poi vi faccio vedere qua, camicie, ed ecco qua, la verità che bella roba finita la serie gameplay di super mario world qua credo che credo che al settembre potrei anche iniziare una serie gameplay del programma smerando eh se ci sono problemi ok sperando di non fare altre cagate qua qua prima ci va un checkpoint qua in verità più o meno male e porca troia come perdere potenzialmente in pochi secondi pure i power up non lo so oh ma no meno male che ho preso il check qua non ci posso potutamente credere oddio dai qua meno male qua meno male assurdissimo proprio il limite dell'assurdità dai facciamo scendere questa cosa qua no no non ci posso credere non ci posso fortunatamente credere che tutti i potenziamenti ho perso anzi ho quasi tutti ma come cacchio faccio qua meno male dai qua devo fare più veloce proprio perchè io non ci posso fattuamente credere ok ce l'ho fatta oddio non male che la boss fight è abbastanza facile qua oddio facile non credo ma però ce l'ho fatta oddio devo vedere me la contro un'altra boss fight ecco ma invece no ok ecco torniamo indietro a recuperare i miei potenziamenti qua eh ok dai che credo che sono già sono quasi arrivato al finale qua perchè visto che so che credo che questa serie game durerebbe soltanto una decina quindicina di episodi va ok andiamo ok l'altro non mancherà il boss finale in questa serie game play almeno potrei riuscire a portare i livelli principali in questa serie game play almeno potrei riuscire a portare i livelli principali in questa serie game play qua non c'è niente non fungo nella minchia porca troia quando è quando è vide ex ok dobbiamo andiamo 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 e no non dovevo oddio avevo preso l'invincibilità è già mi è stata tolta porca troia ok visto che prossimo livello vuole fare la boss fight del mondo 6 è qua no almeno ok forse dopo il livello 5 qua vai vai ma non li potrei anche riuscire a farlo dicendo magari potrei anche riuscire ad arrivare fino a 99 vite qua i tubi che si allungano e si accorciano qua se certi livelli sono poi abbastati atto non so che cacchia è quella stellina porca roba andrà a recuperare i oshi qua scusate se perdo tempo qua per tempo perdo minuti di gameplay qua ok quando c'è la super bella giuda qua ho preso pure il check point speriamo di non cadere di nuovo qua eppa mi devo dire mi ero convinto che i oshi scappavano qua o dire oddio 40 stellini ah forse per poco non riusciva a arrivare oddio e qua doppia boss qua ok andiamo a fare anche ma che ah dobbiamo stare attenti qua perché sembra comunque del deal di peffo la mario attenti e mentre su a dire minchiate prendo già il potenziamento qua ma meno male che non sono caduto qua ok meno male e vaffanculo vaffanculo e perdo tutti i potenziamenti vaffanculo io non ci no non ci posso fottutamente credere c'è assurdo tutti i potenziamenti pezzi in pochi secondi vediamo in 13 minuti non so se ce la faccio un po' lo potrei anche rimandare al prossimo episodio e vaffanculo vaffanculo Cattop! Mi chiedo perchè Yoshi non può entrare nel castello? Infatti non entro... Accesso negato! Qua devo stare comunque attendo qua... Queste tipiche trappole... E por... no no... Non ci posso fortunatamente credere... Cioè perdo di numero tutti potenzialmente assurdo... Bello è che poi crepo pure negli stessi punti qua eh... Ecco tipo qua... Ok meno male... Non ci posso... no no no... Chiudo qua questo episodio altrimenti... A fine che sclerò malissimo... Quindi ragazzi... Nel prossimo episodio faccio anche la boss fight del mondo secco... Perchè non riesco a batterlo in questo episodio... E ci becchiamo alla prossima qua... Quindi... alla prossima...